Buongiorno, ci troviamo qui in una serra aeroponica, qui c'è una coltivazione di basilico. Adesso vi faccio vedere come si raccoglie il basilico e come sia facile coltivare il basilico in aeroponica. Ecco, adesso intanto ho spostato il tavolo, prendo la cassetta, la appoggio qui, eccola qui, e inizio a raccogliere il basilico. Guardate, non è facile, eccolo, guardate, tenero, bello, fresco, guardate, e lo metto nella cassetta. Via, uno, due, tre, guardate come è facile raccogliere il basilico, guardate, ce n'è in quantità industriale, guardate qui, io vado qui in mezzo, guardate, continuo la raccolta del basilico, guardate che bello, eccolo qua. Guardate come è vigoroso, guardate, come è vigoroso, grande, bello, molto profumato. Dunque, siamo qui in un mondo di basilico. Grazie e arrivederci.